e se ne va la capolista se ne va mamma mia guaiu abbiamo vinto pure questo ormai lo scudetto è un host nessuno che ce lo può filmare più in napoli dopo ha fatto un record dal record a mia guaiu non immagino che cosa può succedere a napoli se veramente noi vinciamo lo scudetto guaiu vi dico solo una cosa se noi vinciamo pure con l'unice non ci se ne è per nessuno lo scudetto sta già fuori o è già del napoli vabbè ma io questo è un sogno che sta vera grande napoli e noi ci becchiamo sabato per il post partita di napoli un lunese bella buonanotte e se ne va la capolista se ne va buonanotte va giu facciamo sempre bella bella